amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazione autosportiva oggi abbiamo in sede da noi una chicca una macchina veramente molto molto particolare questa è un alfa 4c che raramente ci capita di vedere allora prima di elencare i lavori che noi abbiamo fatto facciamo due dati su questa macchina perché è veramente molto particolare è una macchina che è stata prodotta per pochi anni per due anni anche meno dal 2013 2015 e poi è stata tolta di produzione al classico motore 1750 centrale in alluminio quindi è lo stesso motore della giulietta veloce però con il basamento completamente in alluminio con un quattro cilindri in linea da 240 cavalli questo questo è la potenza nominale di questo motore cambio sequenziale dopo a frizione tct caratteristico di questa vettura frazione ovviamente posteriore due dati sul sulle prestazioni quindi fa uno 0 100 in quattro secondi e mezzo questo macchina stock prima di essere toccato ovviamente e velocità oltre 260 all'ora le caratteristiche sostanzialmente sono un telaio completamente in fibra di carbonio quindi una delle caratteristiche fondamentali è proprio la costruzione di questa macchina che ha la parte diciamo centrale la diciamo la gabbia centrale è completamente in fibra di carbonio e i due telaietti anteriore posteriore che si vanno aggiuntare sul sulla cellula centrale sono completamente in alluminio questo che cosa comporta una rigidità torsionale eccezionale da gran sportiva ma soprattutto la cosa incredibile il contenimento del peso cioè questa macchina qua pesa 970 kg quindi facendo un debito una proporzione con i cavalli diciamo che ha un rapporto peso potenza di 3,89 cavalli per chilo quindi veramente la dice lunga su sulle finalità di una macchina del genere non è una macchina stradale per tutti i giorni un'altra caratteristica che magari non tutti sanno questa macchina è stata viene è stata costruita negli stabilimenti della maserati a modena quindi il progetto soprattutto dalla parte in carbonio e di derivazione formula 1 ed è stato affidato alla dall'ara la costruzione è stata fatta appunto a modena direi che pochissime macchine se non le supercar appunto che siano lamborghini che siano ferrari possono bantare questo genere di soluzioni tecniche veramente all'avanguardia l'impianto frenante brembo con dischi flottanti e campana in alluminio direi che queste sono le caratteristiche sostanziali ecco prima di entrare nel merito dei lavori che abbiamo che ci state affidati diamo un'occhiata anche alla parte interna dove appunto vediamo che non c'è il manettino del cambio se non le classici pulsanti del tsc quindi questo è il manettino del dna che a differenza delle classiche alfa che più o meno hanno tutte è stata aggiunta la funzione launch control quindi in questo caso partenza da fermo con massima accelerazione ed è tipica di questa macchina qui come dicevo il cambio tct tipico di questa di questa versione paletta al volante e poi un'altra delle caratteristiche incredibili è proprio il telaio quello si vede questo è proprio carbonio vero cioè è una scocca di carbonio vero su tutta la parte anche laterale il longherone il il giroporta e quella è la parte che secondo me fa una differenza abissale e direi che ancora soprattutto la parte in carbonio per quello che sono le informazioni che ho preso dato che la produzione comunque è stata una produzione molto limitata perché ne hanno prodotte meno di 2000 unità chi produceva la parte in carbonio è una ditta artigianale sempre nel modenese proprio a livello artigianale cioè produrre il carbonio in autoclave ogni cellula viene fatta manualmente quindi ogni macchina diciamo che non è una diversa dall'altra però c'è una manualità che differenzia appunto una macchina dall'altra perché ogni cellula non è che viene prestampata ma sono appunto dei fogli in carbonio che vengono assemblati con una determinata procedura il tutto viene messo in autoclave e alla fine si ottiene questo tipo di risultato ovviamente tutta questa parte di costruzione non viene fatta da una macchina controllo numerico ma viene fatta da un uomo o da più uomini che hanno appunto questa esperienza quindi la caratteristica secondo me per quello che ritengo è appunto il fatto di avere ancora una macchina parzialmente o per buona parte costruita manualmente cosa che oggi è praticamente scomparso cioè tanti anni fa le macchine venivano assemblate parte in catena di montaggio ma per buona parte anche manualmente oggi questo concetto qua è praticamente scomparso ma anche nelle produzioni di supercar forse le pagani zonda o macchine di questo genere hanno ancora una una competenza e una come dire una manualità umana tutte le altre macchine ferrari porsche e quello che vogliamo e lamborghini quello che vogliamo sono tutte costruite dalle macchine quindi diciamo che sì non dico che si spersonalizza sono bellissime macchine per l'amor di dio però c'è una bella differenza tra una macchina parzialmente costruita a mano e una macchina costruita in maniera totalmente autonoma da da un da una macchina diciamo ok veniamo adesso a quelli che sono i lavori che ci ha commissionato il cliente che usa questa macchina prevalentemente in pista e questo lo si denota soprattutto dalle gomme che sono appunto delle semi slick queste sono delle pirelli p zero trofeo 2 35 35 19 lo si vede lo si vede anche dalla dalla spalla che ha già girato in pista è stato adeguato l'impianto frenante è stato diciamo adeguato quantomeno è già di ottima fattura come dicevamo un impianto brembo a 4 ma 4 pistoncini quello che abbiamo cambiato sono le pastiglie dei freni per renderle chiaramente più performanti adesso basta toccare il freno e la macchina si inchioda immediatamente sono proprio pastiglie specifiche per l'uso agonistico cioè pastiglie di questo genere usate in strada già queste gomme qui usate in strada non hanno senso ma come dire pastiglie agonistiche usate in strada veramente diventano quasi pericolose perché hanno proprio un bloccaggio repentino veniamo al motore che equipaggia la giulietta veloce in questo caso è stato adeguato sono stati risparmiati i pesi montando una batteria agonistica in sostituzione di quella normale questa macchina diciamo sul discorso pesi è stato fatto un lavoro veramente incredibile è stato modificato il condotto di aspirazione quale le parti diciamo lo si vede scara 73 proprio una ditta che produce parti specifiche per questa macchina è stato sostituito lo si può vedere da questa parte qua l'intercooler laterale mettendo un intercooler maggiorato per curare questa parte questa massa radiante che va a raffreddare l'aria che arriva al turbo e ovviamente è stata adeguata la parte elettronica di conseguenza perché deve essere adeguata alla perdita di pressione dovuta all'intercooler maggiorato la linea di scarico è stata linearizzata praticamente una linea di scarico quasi diretta quindi con una sonorità stile ferrari direi che non cambia più di tanto considerando che questo motore qui non è un motore di cubatura molto elevata come può essere un motore di maranello ma comunque è un 1.750 quindi un motore sostanzialmente piccolino non cambia più di tanto la sonorità l'avete sentita è direi di più che di soddisfazione l'ultimo lavoro che ci ha commissionato il cliente ripeto utilizzandola prevalentemente in pista in pista tutti sanno che purtroppo le macchine si usurano in maniera particolare soprattutto nella parte anteriore vengono massacrate da quelli che sono i sassolini diciamo le brecciolino che altre macchine davanti a voi vi arriva sulla carrozzeria quindi un lavoro che ci ha chiesto è proprio quello di praticamente rivestire la parte anteriore questo lavoro che dovremmo ancora fare dobbiamo studiare con chi esegue questo lavoro qua di pellicolatura metteremo una pellicola trasparente di protezione sicuramente su tutta la parte delle paraurti anteriore il cofano gli specchietti e la parte dei passaruota quindi andremo a rivestire sostanzialmente tutta la parte anteriore con questa pellicola protettiva trasparente per cui da un punto di vista estetico non si vede assolutamente nulla perché la parte sotto rossa rimane esattamente come quella che è adesso però è una pellicola fatta apposta quindi di grammatura abbastanza consistente riesce a mantenere un'integrità della carrozzeria più che accettabile chiaro si arrivano dei sassi di certe dimensioni tanto per farvi vedere un attimo i danni che vi può creare questo utilizzo agonistico guardate solo questo questo vetrino qua di protezione questi sono dei fari originali qui probabilmente è arrivato un sassolino magari neanche di chissà quale dimensioni e ha completamente spaccato quello che è il rivestimento di questo di questo faro tanto per farvi capire se questo sassolino qua finiva sul parabrezza chiaramente lo crepava in maniera per cui sono come dei piccoli proiettili nei limiti del possibile cerchiamo il cliente vuol cercare di mantenere integra la carrozzeria e con questo sistema della pellicola protettiva entro certi limiti la macchina viene mantenuta viene mantenuta diciamo in condizioni più che perfette io direi che anche per questa alfa 4c è tutto speriamo di vederne altre perché sono veramente dei gioielli che a me piace molto farvi vedere anche per enfatizzare quello che è la capacità italiana nel fare macchine eccezionali una macchina di questo genere dal mio punto di vista rimane eccezionale come sono eccezionali delle macchine molto di nicchia abbiamo parlato di ferrari abbiamo parlato di lamborghini abbiamo parlato di altri generi di macchine però una macchina di questo tipo fatta dall'alfa diciamo che riprende quelli che sono i fast del passato riprende quello che è stato il successo della 8c è un'altra macchina ancora più estrema di questa direi che fanno onore all'industria italiana la capacità diciamo estetica e meccanica dell'industria italiana per cui ben venga averne ogni tanto qualcuna da mostrarvi perché è veramente un onore per il resto è tutto come al solito vi chiediamo di cliccare sulla campanella ma iscrivetevi al canale questo lo chiediamo proprio spesso e volentieri per cercare di far crescere il canale noi di solito diffondiamo il più possibile questa nostra cultura questi lavori che facciamo e facciamo anche tante puntate di da scaliche quindi se vi fate crescere il canale sicuramente diffondiamo questa cultura che tante volte esula dal puro discorso commerciale sulla macchina ma vengono trattati anche dei temi in interesse un pochino più generale per il resto mi potete trovare in sede quando volete è tutto alla prossima Iscriviti al canale Grazie.